È un gran lavoro quello che sta portando avanti anche l'amministrazione comunale di Pescara per l'accoglienza dei profughi che arrivano quotidianamente dall'Ucraina. Assessore, soprattutto l'assistenza sanitaria è più che mai una priorità? Sì, il Comune di Pescara è in prima linea per garantire la sicurezza sanitaria, perché queste persone, soprattutto mamme e bambini che arrivano a Pescara, ovviamente poi potrebbero in qualche modo contagiare la popolazione residente. Per evitare questo abbiamo in collaborazione con la ASL attivato una rete di controllo preventivo sanitario attraverso tamponi che verranno somministrati puntualmente all'arrivo di queste persone. In più, diciamo sempre alla stazione di Porta Nuova questo avverrà, in più c'è la Questura, i Carabinieri e le Forze dell'Ordine in generale che controlleranno ovviamente anche l'affidabilità sociale, parliamo così diciamo di pedina finale, delle persone che arrivano, per poter verificare che non siano persone poco compatibili con il tessuto urbano. Una volta fatto questo ovviamente vengono portati alla cittadella dell'accoglienza per il ristoro, per un pasto e poi successivamente andranno a destinazione. Molto spesso hanno già una destinazione autonoma predestinata perché quelli che arrivano a Pescara abbiamo notato che hanno legami con il nostro territorio o semplicemente arrivano a Pescara per poi andare addirittura anche in altre regioni. Il Comune di Pescara, coordinato dalla sua eccellenza il Prefetto, è divenuto hub provinciale perché il Prefetto ha voluto che tutti i comuni faccio questo riferimento al COC di Pescara per poter fare questa operazione di controllo sul territorio per poi essere dislocati anche negli altri comuni per chi ha legami negli altri comuni. In questo modo riusciremo a centralizzare, governare e controllare quelli che sono i flussi di arrivo che sono molto difficili perché praticamente arrivano anche alla spicciolata, ci sono persone addirittura che ieri mi dicevano sono arrivati in autostop e quindi è ovvio che sono difficili se effettivamente vanno in tutti i comuni della provincia. In questo modo abbiamo centralizzato il governo del flusso in modo da far star tranquillo ovviamente dal punto di vista sanitario e sociale come dicevo prima anche il territorio.